Allora, dove ci troviamo e cosa ci avete portato a scoprire quest'oggi? Allora, in questo momento ci troviamo al pavillon, pavillon di Monfretti è il suo nome completo, siamo a 2173 metri, siamo nel giardino alpino Sassurrea, che è uno dei quattro giardini alpini della Valle d'Aosta. Siamo sul Skyway Montebianco, che è la funivia che da Courmayeur arriva a Puntelbronner e parte da 1300 metri di quota, si ferma in questa stazione, ossia la stazione intermedia e arriva in quota 3466 metri a Puntelbronner. Grazie. Intorno abbiamo le due valli laterali del Montebianco, sono la Val Ferré da questa parte che confina con la Svizzera e da questa parte invece la Val Venite che confina con la Francia, che vengono utilizzate per il giro del Montebianco. Alle nostre spalle c'è il Montebianco, la sinistra, la vetta del Montebianco, la Noir de Poterei, e la Guille Blanche. E da questa parte invece si intravede tra le nuvole ogni tanto, adesso no, il Dente del Gigante. Sì, ma non li prendiamo, quasi qua dietro. Esatto. Sempre alle nostre spalle c'è il compressore sciistico di Courmayeur, che adesso è Prato, essendo estate. e ci sono i ghiacciai della Bremba e del Miage. Per fare un esempio del panorama. All'interno di questa stazione, che è la stazione intermedia, è un po' il cuore di Funivia e Montebianco, di Skyway e Montebianco, ci sono due ristoranti da 150 posti in totale, una sala conferenza sempre da 150 posti, un piccolo shop sia per gli smemorati che avessero dimenticato il materiale da montagna, sia per chi volesse portarsi a casa un ricordo. Specialità locali? Enogastronomiche. E poi soprattutto vino. Sì, esatto, enogastronomiche. Poi c'è la cantina, la Cave du Mont Blanc, che è una cantina di vinificazione in quota, dove vengono vinificati dei vini della Cave du Mont Blanc, che si trova a Morgé, che è poco distante da qui, a 1200 metri. Si tratta di un esperimento che loro stanno facendo, ma con ottimi risultati, perché sono già diversi anni che lavorano a questo progetto, possiede di vinificare in altitudine. Perfetto, direi che... Grazie mille. Prego. Bravissimo. Bravo. Bravo. Grazie mille. Questo si vende grazie. Sì, questo è sconosciuto in un bambino che dovrebbe rimanere colte di notte grazie a gelata o a gelata. Sì, è molto facile. Sì, c'è bene. Sì, c'è bene. Sì, c'è bene. Ciao.